Stasera parlarem dalla vita vista dal bas e chi mei dal Nicolò Casullin al po' Quinta c'è? Cosa sapreva? Aspetta, qui ho bisogno di un aiuto. Come la leggi? Prima se lo spiace... Come la leggi? Vedeki calcagna i genti, le frustranti Vedeki calcagna i genti, le frustranti Perfetto No, ma questa non posso leggere No, no, proviamo, proviamo, parola, si l'abbiamo Ma soprattutto Sì Induo al finis al call Induo inizia i chat dal Nicolò Scusa, Nicolò